Amore mio, aiutami se vuoi! Aiutami! 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 Aspettami qui, faccio in un attimo io. No, ti prego, non andate. Ho capito. Ma che cosa hai sentito? Ho sentito un rumore strano che so, come un lamento. Darei qualsiasi cosa, pur di acquisire un frammento delle storie di questo posto. Però io ho come la consapevolezza di avere già vissuto tutto ciò. Maletti! Maletti! Che importanza può avere sapere chi sono? L'importante è che voi acquisiate la verità. No, non... No, non... No, non... Ma che cosa hai sentito? No, non... No, non... Grazie a tutti.